Via Abraham Ejovic per un nuovo bomber che gioca in Serie A? Il Milan ci pensa, l'indiscrezione è clamorosa, ecco cosa sta succedendo. La stagione del Milan continua a viaggiare a corrente alternata. Dopo il bel successo ottenuto in Champions contro il Real Madrid, la squadra rossonera è infatti tornata a zoppicare in campionato, dove è stata fermata dal Cagliari con il risultato di 3-3 subendo il gol di Zappa nei minuti in finali. Adesso, il diavolo si trova al settimo posto in classifica, virtualmente fuori dalle coppe europee e staccato di ben sei punti dalla sesta piazza occupata dalla Juventus. L'andamento del Milan di Paolo Fonseca non sta certamente soddisfacendo i vertici del club rossonero. Questi ultimi, tuttavia, anziché mettere in discussione l'allenatore hanno deciso di concentrarsi sul lavoro per migliorare la rosa a disposizione del portoghese, serve chiaramente un difensore, ma le sole 20 reti segnate nelle prime 11 partite di Serie A, hanno portato a qualche riflessione approfondita sul reparto offensivo. Milan ha lavoro per rinforzare l'attacco, il nuovo bomber può arrivare dalla Serie A. La notizia di queste ore, infatti, è che il Milan starebbe pensando di intervenire sull'attacco assicurandosi uno degli uomini più in forma del campionato italiano. Il profilo in questione è quello di Moise Keen, autore di 8 gol ed un assist in questo inizio di stagione con la maglia della Fiorentina. L'ex punta del Paris Saint-Germain ha lasciato la Juventus per trasferirsi in Toscana durante l'estate. L'operazione è stata definita a titolo definitivo, a fronte di un corrispettivo di 13 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di 5 milioni. Adesso, però, il suo valore di mercato è significativamente cresciuto. Per la precisione, si parla di 40 milioni di euro. Una cifra che, per quanto importante, non spaventa i dirigenti del Milan. Stando alle indiscrezioni, il club lombardo starebbe sondando il terreno per capire se vi sono i margini per concludere l'affare. Già nel mese di gennaio, Ibrahimović e compagni sarebbero addirittura disposti ad un doppio sacrificio per finanziare l'operazione, le cessioni di Temi e Ibrahimović, entrambi elementi che finora non hanno dato alla causa rossonera l'apporto sperato. Staremo a vedere se tali indiscrezioni saranno confermate e se il Milan riuscirà effettivamente a piazzare il colpaccio. Categorie Calciomercato Milan